Una escape room per stimolare l'educazione finanziaria è la nuova esperienza interattiva che il Museo del Risparmio di Torino, su iniziativa di Intesa San Paolo, permetterà ai visitatori di cimentarsi in un gioco che rappresenta il percorso della pianificazione finanziaria. Giovanna Paladino, direttrice del Museo del Risparmio. Non è proprio la solita roba, questa è una escape room molto particolare che si svolge all'interno delle diverse sale del museo, bisogna risolvere enigmi, toccare, agire e arrivare alla cima di una vetta, che appunto la scalata, questo è il nome di questo escape room, è una metafora per raccontare come gestire i propri soldi ed arrivare all'obiettivo. La montagna è una metafora perfetta per la pianificazione, nessuno va in montagna con l'infradito, almeno non tutti diciamo, perché per arrivare alla cima bisogna comunque essere attrezzati, così come nella vita per arrivare ai propri obiettivi bisogna pianificare, capire cosa si può fare, gestire le entrate e le uscite, avere un piccolo gruzzolo per le venenze negative e riuscire in qualche maniera a capire quanto tempo ci si metterà per arrivare a raggiungere questo obiettivo. La simulazione riguarda la scalata di una montagna da parte di una cordata di alpinisti. A ogni turno un gruppo di massimo dieci persone dovrà affrontare gli enigmi da risolvere nel minor tempo possibile. La vetta rappresenta l'obiettivo finale, mentre le sfide lungo il percorso riguardano i passi della pianificazione come il calcolo delle entrate, la stima delle uscite e la previsione di accantonamenti. Marattiva per sempre, questa è una cosa che diventa parte del nostro corredo formativo, del nostro patrimonio di contenuti. Sabato prossimo ci sarà una prima tornata aperta alla visita del pubblico, quindi ci saranno tre turni, dalle 15, alle 16 e alle 17 e poi una volta al mese da luglio sarà aperta al pubblico.